buongiorno sono francesco terzani manager in diretto di neos italia prima di parlarvi di neos è doveroso da parte mia porre lo sguardo all'indietro dove tutto ha avuto origine ovvero la svezia tutti noi conosciamo il professor brone mark ha migliorato la qualità della vita di milioni di pazienti in tutto il mondo e ha cambiato per sempre la professione dell'odontoiatra e dell'ortopedia è stato uno degli scienziati clinici più impegnati del nostro tempo a guidarlo è sempre stato il benessere del paziente è da qui e da questo presupposto che è nata e si è sviluppata neos dall'unione di due visionari il professor nel meredith e dall'ingegner frederick engman co fondatori di neos il primo professore di odontoiatria restaurativa e biomateriali all'università di leeds e il secondo ricercatore responsabile del reparto r&d dei nobel biocare la loro idea di approccio etico è stata quella di lavorare alla semplicità intelligente hanno sviluppato una piattaforma di lavoro obiettivizzata alla massima razionalizzazione della terapia implantoprotesica adottando un protocollo clinico scientificamente validato l'innovativa piattaforma protesica che noi chiamiamo nurse one garantisce in sostanza una perfetta comunicazione all'interno del team odontoiatrico un minor numero di componenti quindi scorte ridotte sia per lo studio sia per il laboratorio quindi anche minor rischio di errori e un grande vantaggio competitivo che è quello di consentire di fornire ai propri pazienti trattamenti affidabili ed economici con risultati predecibili a lungo termine cosa abbiamo fatto abbiamo ottimizzato i flussi di lavoro e le tempistiche di realizzazione siamo in grado di offrire la massima flessibilità per favorire le relazioni all'interno del team odontoiatrico odontotecnico e paziente il quale resta il nostro obiettivo primario è comune nel contesto delle terapie riabilitative implantoprotesiche il paziente è al centro della nostra vision i nostri valori possiamo sintetizzarli quindi in impegno a sviluppare soluzioni di trattamento intelligenti e lavorando a stretto contatto con i professionisti del settore neos rende il complesso meno complicato ciò che noi chiamiamo appunto semplicità intelligente secondo innovazione innovazione spostandoci nell'odontologia digitale per mantenere standard elevati dei trattamenti rivolti ad un più ampio numero di pazienti e poi ultimo ma non ultimo l'etica parliamo portiamo sempre prima da una domanda a chi sono destinate le nostre soluzioni invece parlando del futuro i nostri obiettivi sono quelli che di semplificare la vita dei professionisti del settore aiutandoli a curare meglio un maggior numero di pazienti il nostro obiettivo comune è il rispetto e la cura del paziente la consapevolezza che ogni paziente trattato con le nostre soluzioni avrà una vita migliore altro obiettivo raggiungere pazienti quindi la vera sfida è questa devono capire i pazienti la differenza tra gli impianti dentali e le altre opzioni come diceva il professor vronenmark nessuno dovrebbe morire con i denti in un bicchier d'acqua quale migliore verità e infine il miglioramento continuo uno dei pilastri portanti di neus è stato quello di ripensare ogni soluzione di portare sempre il miglioramento continuo come afferma il nostro seo e president dottor robert gottlander non siamo solo contenti di avere ottimi prodotti ma vogliamo migliorarli e renderli più facili da usare